È diventato un brand che ha valicato i confini provinciali e regionali. Pastorizza in festival, torna di scena a Piccinisco il 6 e 7 luglio, per raccontare le eccellenze enogastronomiche della Valle di Comino, il pecorino d'Oppa, ma anche gli antichi riti e le tradizioni, che parlano di un territorio legato a doppio filo con la sua terra e i suoi prodotti. Per questo saranno tanti i laboratori previsti per il primo fine settimana di luglio, dedicati a grandi e piccini. 6 e 7 avremo a partire dalle 18 di sabato l'apertura della manifestazione tradizionale, dove ci saranno stand, musica, gastronomia, artigianato locale, tutto incentrato sul mondo della pastorizia e naturalmente del pecorino di Piccinisco. Proprio l'anno scorso è stato riconosciuto al Comune di Piccinisco il titolo di città del formaggio, proprio in onore del pecorino di Piccinisco. Avremo diversi laboratori, soprattutto per i bambini, proprio per il mondo caseario, laboratori per il formaggio, per la ricotta, per la mungitura delle pecole, insomma ecco, un evento per tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi. Quest'anno il programma si arricchisce di una terza giornata. Il 30 giugno sarà una domenica da trascorrere sui passi del pastore. La manifestazione si svolge a partire dalle ore 8 da Prate di Mezzo. Ci sarà questa passeggiata fino a Fonte Fredda, dove ci sarà l'atteso evento musicale di Ambrogio Sparagna, che quest'anno sarà nostro ospite, graditissimo naturalmente. Abbiamo ricevuto tante chiamate anche dall'esterno della nostra provincia, dalla provincia di Caserta, dalla provincia di Viterbo, dalla provincia di Pescara. Effettivamente il brand si è confermato di successo. Grazie. Grazie.